che gli utenti di app per smartphone sono vittime di data mining anche quando non utilizzano l'app. Quali sono le informazioni personali sottratte? Allora, diciamo che bisogna considerare un'app come un malware legale. Ormai questo è il modo migliore per descrivere le app. Un'app che si tratti di un'applicazione di social media sviluppata da ByteDance come TikTok o Facebook o Instagram, qualsiasi di queste app è fondamentalmente un malware legale che consente allo sviluppatore di monitorare, tracciare e analizzare i dati dell'utente finale a scopo di lucro 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Una singola app intrusiva consente allo sviluppatore di raccogliere oltre 5.000 punti di dati altamente confidenziali associati alle informazioni personali dell'utente finale. Informazioni commerciali, mediche, legali e professionali, perché lo spionaggio e il data mining effettuati da queste aziende sono indiscriminati, il che significa che non raccolgono solo informazioni per profilarci come consumatori. prendono ogni singolo dato personale, compresi messaggi di testo, email, eventi del calendario, tutto, perché un'app si collega a tutto l'hardware del dispositivo, sensori, fotocamera, microfono, accelerometro, eccetera. In questo modo possono effettuare una sorveglianza audio, video e fisica dell'individuo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, raccogliendo tutti i dati altamente riservati sull'utente finale. Questo servirebbe a scopi commerciali, ma queste aziende tecnologiche, ormai si sa, cooperano con certi governi, ai quali girano queste informazioni.